Ben a tutti ragazzi sono Mario, non so se io è il prossimo video, raga oggi siamo su FIFA 20 e siamo su un pack opening Raga in questo video ho aperto alcuni pacchetti, due giocatori e non perdetevi la sorpresa oppure per migliorire il troll finale di questo video Quindi un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e io vi lascio al pack opening Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti